Ginghem di Coburn, una commedia deliziosa che Valeria e io abbiamo fatto quanto più o meno? Credo una ventina d'anni fa. Ecco una ventina d'anni fa, con questa nuova compagnia, cioè Valeria Valeri, Paolo Ferrari per la regia di Francesco Macedonio e la nuova compagnia dei giovani, come ho detto perché mediamente mettiamo insieme quasi 280 anni, non stiamo a vedere come sono distribuiti. La commedia è molto bella, l'abbiamo fatta, ripeto, vent'anni fa, è una commedia geniale, sì, di due che stanno in casa di riposo, eccetera, e ha come prerogativa quello che tutte le commedie dovrebbero avere per attirare il pubblico, e cioè la prima parte, sì? Ci si diverte, è comicissima, ma poi è una comicità intelligentissima, poi questi due personaggi si scrutano, vengono fuori piano piano i loro caratteri e, ahimè, qual è? Sì, alla fine diventa drammatica, a testimonianza che si può anche impazzire per delle piccole stupidaggine, per delle piccole manie, ma non mi racconto niente, ripeto, quando l'abbiamo fatta vent'anni fa è stato un grande successo, e ci auguriamo di ripeterlo. La regia sarà di Francesco Macedonio. Vi aspettiamo, grazie. Grazie a voi, ciao!